Ma lei pensa che spaccare la faccia alla gente sia una cosa che mi piace? Prima di decidere chi sono gli innocenti e i colpevoli dovrebbe almeno chiedersi come funziona il lavoro della Celere. Ma in quei momenti c'hai il cuore che te batte forte. L'adrenalina che sali a mille, la testa che te rimbomba che sembra che debba scoppiare dentro al casco, non senti niente. C'hai solo i tuoi fratelli accanto. Solo su quei fratelli puoi contare.